ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di media e misteri scp oggi parliamo della scp 3.337 chiamato anche morte dell'artista livello 1 bala 3.337 classificato cast dell'oggetto safe se non ho detto viene anche chiamato comunque morte dell'artista poi c'è due specie di contenimento il 23 maggio il museo e la galleria indicati nella coppia dello scorso anno di scp 3.337 attino 3 devono essere momentaneamente chiusi al pubblico una falsa notizia appropriata deve essere indirata dal capo specialista di contenimento almeno tre mesi prima dell'evento eventuali siti manifestazioni all'esterno edificio devono essere resi inaccessibili se non ve ne sono di doni all'interno si deve operare per un sito esterno al fine di minimizzare la visibilità e il terreno sottostante deve essere controllato a vista i resti degli semplici di scp 3.337 attino 2 devono essere esaminati da un medico legale della fondazione entro una settimana dalle 20 e poi inceneriti quelli di scp 3.337 attino 3 devono essere rimossi analizzati e conservati nell'archivio di minima sicurezza del sito 28 descrizione scp 3.337 è un fenomeno che si verifica ogni 23 maggio in un museo una galleria dei stati uniti continentali che soddisfi certi criteri gallerie e musee che soddisfano tali requisiti devono essere considerati potenziali istanze di scp 3.337 attino 1 le istanze di scp 3.337 attino 1 devono assibili soprattutto opere date realizzate nel ventesimo e ventunesimo secolo almeno un'opera esposta di scp 3.337 attino 1 deve essere stato oggetto di significative controversie al momento della sua prima esposizione un istanze di scp 3.337 attino 1 deve avere un balcone un atrio una scalinata aperta o una finestra accessibile al pubblico che sia almeno tre pieni sopra il terreno a così fa riferimento in questo documento come sito di manifestazione intorno alle 11 e 30 di mattina del 23 maggio un'istanza di scp 3.337 attino 2 apparirà in un punto inosservato attorno all'interno di una singola istanza di scp 3.337 attino 1 gli esemplari di scp 3.337 attino 2 sono esseri umani di sesso femminile geneticamente o fisicamente uguali a luisa bellocchio la presunta creatrice di scp 3.337 un artista noma attiva in italia ea new york tra la fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80 ciascuna istanza di scp 3.337 attino 2 è vestita con una baglietta bianca e jeans blu il cui marchio il produttore cambiano a seconda dei casi se un esempio di scp 3.337 attino 2 si manifesta all'esterno della galleria o del museo entrerà e mostrerà una tessera soci o un biglietto di ingresso per stampato ovvero possibile tutte le stanze si leggeranno nel punto più alto e accessibile dal sito di manifestazione posizioneranno una copia di scp 3.337 attino 3 e si suicideranno soltanto da di sotto le copie di scp 3.337 attino 3 sono tranne legge e differenze nella presentazione ciascuna etichetta di scp 3.337 attino 3 fondamentalmente contiene la medesima informazione ogni stanza identificherà anche quella dell'anno successivo di scp 3.337 attino 1 descrivendola come l'istituzione che ha venduto o prestato l'opera d'arte alle semprie di scp 3.337 attino 1 nell'anno corrente prevenire che i semprie di scp 3.337 attino 2 si suicidino finora sia rivelato impossibile sono parzialmente intangibili prima della morte sono in grado di passare verso porte chiuse e barricade che impedirebbero loro di accedere ai siti di manifestazione e sebbene pediligano a posti accessibili ne sceglieranno uno che non lo è e se alcuni di questi verranno bloccati una volta che le semprie ha raggiunto il sito posso diventare intangibili per le persone che provano a ostacolare il suicidio e alle misure preventive come delle reti che ne evitino la morte e questa è tutta la storia scp 3.337 se il video vi è piaciuto come sempre mi lascia un bel mi piace per questo di tutto e noi ci vediamo alla prossima